E dal sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, aggiunge il riconoscimento ufficiale per il grande lavoro sul tema della sicurezza per i cittadini e i turisti della cittadina adriatica che sta svolgendo l'ufficio mobile della polizia. Il tema sicurezza è sempre costantemente sentito dai cittadini, un elemento che diventa più sensibile con l'avvento del periodo estivo e soprattutto nei luoghi della villeggiatura, quelli che rilevano aumenti sostanziali di presenze. Così il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, consapevole delle problematiche sulla sicurezza che è gravata sulla cittadina da lui amministrata, plaude alla scelta della Polizia di Stato di costituire l'ufficio mobile, una nuova postazione di presidio al porto e che persegue una importante attività di pattugliamento costante del territorio. L'ufficio mobile, visibile principalmente sul lungomare nord ma presente in diversi punti della città, è senza dubbio un ottimo servizio per i nostri cittadini, scrive in una nota il primo cittadino di Termoli, e funge anche come deterrente per eventuali malintenzionati, permettendo a tutti i villeggianti di vivere i giorni di vacanza in totale serenità. A breve sarà operativa anche la nuova postazione della Polizia al porto, cosa che renderà Termoli una città più sicura e farà del nostro approdo un luogo ancora più efficiente al servizio di turisti, cittadini e di portisti.